Per liberarti dei pesciolini d'argento, passa accuratamente l'aspirapolvere in casa per rimuovere le uova che potrebbero nascondersi in tappeti, assi del pavimento, angoli e fessure difficili da raggiungere. Un modo facile e non tossico di uccidere i pesciolini d'argento è cospargere un po' di terra diatomacea nei punti in cui li hai visti, per esempio sotto il lavandino, nel seminterrato e dietro ai mobili. La terra diatomacea è una polvere che disidrata e uccide questi insetti quando vi entrano in contatto. Anche se non è tossica, assicurati di tenerla lontana da bambini e animali domestici. Piazza trappole commerciali per pesciolini d'argento in tutta la casa per catturare ancora più insetti. Per evitare che entrino in casa, sigilla le crepe intorno a porte e finestre con il silicone. Usa un deumidificatore se in casa c'è molta umidità, perché i pesciolini d'argento prosperano in ambienti umidi. Dovresti anche conservare alimenti secchi come pasta, riso e cereali in contenitori sigillati per eliminare le fonti di cibo. Infine, rimuovi eventuali pile di carta, libri o riviste in giro per la casa, perché i pesciolini d'argento amano nascondercisi.